Gianni Amel oggi presenta la sua candidatura per le amministrative del 2016, cioè per futuro candidato a sindaco di Portempedocle. Un impegno sicuramente notevole, considerata anche la difficoltà del momento in cui si trova anche il comune di Portempedocle da un punto di vista amministrativo. Ecco, molti si chiedono chi l'ha spinta, perché, chi c'è dietro? Allora, dietro non c'è nessuno. Io ho sempre avuto una passione che mi porto da sempre e sono molto legato al mio paese, Portempedocle. Per questo ho accettato questa sfida. Cosa vogliamo fare? Siamo un gruppo di persone che ci siamo uniti e che crediamo che Portempedocle possa ritornare a quella che era un tempo, un paese fiorente dove la gente trovava lavoro e soprattutto viveva serena. Come ci muoveremo? Noi siamo partiti presto perché abbiamo bisogno di far conoscere il nostro progetto alla gente. Vogliamo andare tra le persone, spiegare cosa si deve fare, come si deve fare e finalmente avere il consenso delle persone sui progetti. Dobbiamo agire su un doppio binario se riusciremo a conquistare il comune e a poter amministrare in maniera veramente serena per il bene comune. La prima parte deve essere quella di risanare le casse comunali. Noi abbiamo una situazione disastrosa attualmente nel comune di Portempedocle. Noi siamo convinti che con una sana amministrazione, con la cosiddetta amministrazione del buon padre di famiglia, le casse si possono risanare. Dobbiamo limitare questa pressione tributaria comunale sulla gente che impoverisce il territorio, quindi fa affermare l'economia del paese, che noi abbiamo bisogno di rilanciare per dare una possibilità a tutti di trovare lavoro e occupazione. Dall'altra parte abbiamo un grande sogno che porteremo avanti, quello di realizzare dei progetti, di trasformare Portempedocle utilizzando le risorse regali. Noi abbiamo poche risorse in questo comune, che sono l'area Eximondedi, sono l'area Asi, il porto e le nostre spiagge. Questo è il futuro di Portempedocle, su questo vogliamo lavorare. Noi spiegheremo alla gente cosa vogliamo fare delle nostre risorse, come le vogliamo utilizzare, per dare a Portempedocle e ai suoi cittadini che lo meritano un futuro. Perché la cosa importante, parlavo con un amico mio, è quella di ritrovare l'orgoglio di essere in Bedocline, questo paese che si è distinto per tanti anni e riportarlo come era e dare questa prospettiva di sviluppo e di serenità a tutti gli abitanti in Bedocline. Grazie a tutti.